I poliziotti delle squadre mobili di Roma e Napoli del commissariato Viminale di Roma, la polizia locale di Roma e Napoli, al termine di un'indagine hanno individuato i componenti di una banda di truffatori che prendevano di mira persone anziane. In tutto 11 gli arresti, gli accusati dovranno rispondere a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata all'estorsione, truffa aggravata e furto, utilizzo fraudolento di carte di credito, sostituzione di persona e porto illegali di armi. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire numerosi crimini realizzati dall'associazione operante su tutto il territorio nazionale, con base nel centro storico di Napoli, dove era collocato il centralino da cui partivano le telefonate e dove confluivano i proventi delle truffe. Gli indagati dovranno rispondere di almeno 68 episodi. L'indagine è scaturita da una serie di denunce e di truffe avvenute fatte sempre con la stessa tecnica. L'anziano viene contattato da un finto avvocato o un sedicente carabiniere che lo avvisa di un imminente pericolo per un parente, un figlio, un nipote, il quale senza un intervento economico rischierebbe l'arresto. La vittima, intimorita e spaventata, apre la porta a un complice che poco dopo si presenta per ricevere denaro e gioielli. Tra gli indagati anche i capi dell'organizzazione, due uomini che reclutavano altri membri della banda e coordinavano le attività del gruppo. Il primo di 47 anni elaborava i piani indottrinando i complici su come agire, individuava le vittime e incassava e divideva il malloppo. I componenti del gruppo ricevevano anche incentivi da un complice perlustratore sulle vie più appetibili della città, zone tranquille, solitamente residenziali, potenzialmente abitate da persone facoltose, dove di solito non vi era il portiere o sistemi di videosorveglianza. L'organizzazione si avvaleva anche della presenza di due donne che, oltre a svolgere le telefonate, reclutavano gli esattori. Si tratta di una 53enne e una 57enne. Nel corso delle attività sono stati sequestrati 65.000 euro in contatti e numerosi gioielli in oro.